il numero 7 è il assuli, il numero 8 va la carne, il numero 9 è Sali, il numero 10 è Ticli, il numero 11 è Pilotti. Il numero 12 è il numero 13 è il numero 14 è il numero 10 è il numero 10 è il numero mani, amici, 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 am Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.